La Russia vende armi ai terroristi. Anche l'America vende armi ai terroristi. La Russia e l'America fingono di volere la pace. Anche la Svizzera vende armi. Anche la Francia, anche la Spagna e soprattutto il Belgio, che vive costruendo armi. E anche l'Italia vende armi. Ci sono navi che partono ogni giorno dalla Spezia e portano armi ai terroristi. E i nostri uomini di potere fingono di volere la pace. Ora la voce dolcissima di Silvia Frigato dice Ora la pace è più vicina, come se la terra fosse un solo canto, perché chi canta vuole la pace e poi risponde il coro. Ora la pace è più vicina, come se la terra fosse un solo canto. La pace è più vicina, come se la terra fosse un solo canto. Il coro è più vicina, come se la terra fosse un solo canto. che rendo dolce e cantino. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti